Salve a tutti ragazzi sono Harry e oggi siamo in questo video Ragazzi oggi vi mostro il pacchetto nuovo che hanno dato con il Plus Comunque ragazzi non vi aspettate niente di che, ora ve lo mostro Ragazzi l'ho appena riscattato, se ho fatto non riesco a registrare la schermata del Playstation Store No ragazzi questo qui è del Pass Battaglia, quindi andiamo avanti Danno questo piccone Questa skin per arma e queste motte ragazzi fanno un po' a cagare Si potevano sforzare un po' di più Anzi forse, questo non mi ricordo, no si questo è per il passare L'oggetto che mi hanno dato Comunque ragazzi sono tre cose che non è che tanto so belle, fanno un pochettino a cagliare Andiamo a vedere meglio il piccone Ah, a trovarlo Allora, già mi sono dimenticato com'era Eccolo qua Ragazzi questo è il piccone, lo possiamo vedere Sembra ragazzi blu, perché non so perché mi piace il colore blu delle cose del Plus E andiamoci a vedere la medica d'allarma Sarà questa Ragazzi, io già me la sono dimenticato di cosa mi ha Di cosa mi ha Ok, eccolo qua Sì ragazzi è questo Ragazzi si potrebbero sforzare un po' di più di meglio Anche ragazzi perché a me è gratis visto che proprio c'è il Plus Per altri motivi Oddio ma c'è il robot nero Questa è la prima cosa Eccolo questa skin ragazzi Infatti che non c'è un po' di più di più di più Eccolo non c'è un po' di più di più Eccolo non c'è un po' di più di più Ragazzi ora ragazzi questa Questa E questa E se non mi sbaglio ce n'è pure un altro E questa Oppure questo qua era dell'Ord Pass Non mi ricordo Comunque ragazzi Queste sono le vecchie skin che preferisco Anche se ragazzi non mi sono mai tanto piaciuto le skin del Plus E ditemi cosa ne pensate Ciao a tutti